Vuoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparente. Eccoci ragazzi nuovamente in Alliam. Qua siamo questa volta a provare questo bellissimo Merlo sollevatore telescopico. Ecco, ve lo facciamo vedere, vi facciamo vedere adesso subito i movimenti. Questo è il movimento a ragno, come notate, spostamento a ragno, perfettamente funzionante, come lo state vedendo nel video. Ok, adesso vi facciamo vedere lo spostamento, ecco, facciamo vedere i piedini che scendono. Perfettamente funzionanti anche loro i pistoni senza perdita d'olio. Questo macchinario ha solo ed unicamente circa 2000 ore di lavoro, unico proprietario. Il modello è segnato nell'annuncio, mi sembra sia un 30.8, 30 quintali. Di portata massima, ecco qua, vediamo il braccio. Vi faccio vedere un attimo il braccio, com'è. Il modello è un 30.10, quindi un 38.10. Quindi sono 38 quintali a 10 metri di altezza. Vediamo la macchina come lavora bene, la benna, tutti i movimenti. Vedete qua, li mettiamo su, i piedi. La macchina è ben gommata. Insomma, macchina da unico proprietario, viene sostituita con un macchinario più nuovo. Vediamo i movimenti della benna, ecco qua, sollevamento, nessuna perdita idraulica. Facciamo vedere qui i movimenti di ribaltamento di l'unico pistone. L'ondeggiamento laterale del veicolo, che ci permette di metterci dritti, anche con un pavimento non proprio regolare. Ecco i movimenti di oscillazione. L'oscillazione laterale, perfettamente funzionante anche questa. Ecco qua. Adesso, guardiamo un attimo. Vediamo un po' il motore. Sei cilindri, ovviamente. Motore Deus, montato dalla Merlo. Qua vediamo tutte le manutenzioni ordinarie. Qua, come vi ripeto, è una macchina da unico proprietario, padroncino. Sentiamo un po' girare il motore. La macchina è perfettamente, vedete tutti questi segni, sono tutte le manutenzioni taglianti. Qua vedete come è fatto. Tutto il discorso. La macchina adesso è posizionata nello sterzo normale, quello radio del sterzo normale. Il comando è quello del sterzo normale. Vediamo un po' come sterziano le gomme. Combinato avanti e dietro, ecco qua. Adesso vi facciamo vedere anche lo sterzo solo anteriore, perché quindi ha tre sterzi. Quello normale, quello combinato è solo quello anteriore, vedete qua. Ok? Mi raccomando, il veicolo è veramente in perfette condizioni generali, originale. Le ore sono solo 2.000 e qualcosa le troverete nella descrizione. Presente di autoradio addirittura. Tutti i comandi sono funzionanti, luci cabina, vedete qua, tutte accese le luci. Insomma, la macchina va benissimo. Agli interessati, contattateci e venite a provare la macchina. Vedete un po' qua la vernice tutta originale, senza nessun segno di verniciatura, nessuna saldatura, nessuna perdita idraulica. Vi faccio notare che la macchina è gommata molto bene. Insomma, contattateci e venite ad acquistare questo bellissimo Merlo sollevatore telescopico. Alla prossima! Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasportative.